Era dal quel 13 gennaio 2009 con la sconfitta a Valencia e l'eliminazione dai sedicesimi di finale di Euro Cup che la Fortitudo non giocava in una competizione europea. E' tornata questa volta a Sponda FIBA affrontando il Bamberg in una gara mai esistita che è stato un lento ma costante stilicidio progressivo con cui i tedeschi minuto dopo minuto hanno allungato. 13 triple ma anche tanta presenza sottocanestro trascinati da Larsson e le sue giocate per la Fortitudo. Questo Bamberg è stato troppo fin da subito. In una unipol arena desolatamente deserta per le porte chiuse ci ha provato di fatto solo Banks ma non poteva bastare contro un avversario di calibro superiore.